la domanda la domanda di luogo di valutino io posso farmi insomma ecco il figlio questa questa qua ok ecco la vittima ecco dai dai ce l'avevo tutto ahahah non fai che c'è che va con me ecco ecco la perfetta di farlo ecco 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 d d d d d d d d leon d d l l . 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 mi voglio te 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 ti puoi te 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 oddio, oggi mi sono tanto tenere i casi già a milanieri ma sono stato fatto non lo senti? non c'è, non c'è non c'è, non c'è ma ricotta numero 3 non c'è, non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è eh quel parcheggio no c'è qualcuno al parcheggio vabbè ma quale ti chiamo? non c'è non c'è non c'è ecco 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 la vittima non c'è non c'è no tutto l'ha fermato questa rimarrà no 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 non c'è non c'è Grazie.